Il mondo del cinema riparte qui a Pesaro al momento saranno in due a riaprire il cinema Loreto e il cinema Solaris. Ovviamente lo faranno nel rispetto dei protocolli anti-covid. Il film all'ora dell'aperitivo riaprono i cinema pur adeguandosi ai tempi del coprifuoco, proiezione alle 19, nel weekend anche alle 16.30. A Pesaro la sala del Solaris ricomincerà domani, mercoledì, e quella del Loreto giovedì. Una riapertura che avrà una formula particolare perché dopo i sei stati chiusi sei mesi la prima giornata di programmazione sarà offerta al pubblico gratuitamente da entrambi gli esercenti e con una proiezione di film a sorpresa. Ingressi fine ad esaurimento sala, ovviamente contingentati per via delle normative anti-covid, oltre ai cinema ripartono anche i teatri e le sale concerto. Le regole saranno uguali per tutti, posti a sedere pre-assegnati e una distanza di un metro l'uno dall'altra. Capienza massima consentita del 50% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso e 1000 all'aperto. Il cinema riapre in tutta la sicurezza possibile, continuiamo con i posti contingentati, continuiamo con la mascherina anche in sala durante lo spettacolo, quindi è la cosa importantissima di non togliersela e speriamo che vada tutto bene, quindi noi ce la mettiamo tutta. E poi ripartiamo con Minardi che è stato un film premiatissimo all'Oscar, con Mank che è stato presente alla prima elezione e con Lezioni di Persiano che è un altro film importante che è stato premiato alla Berlinate che sono un po' il nostro genere di film. Apriamo con questo film sorpresa che comunque sarà sempre sulle nostre linee. C'è tanto entusiasmo dopo mesi di chiusura? Tante lacrime, mi sono fatta tutti gli Oscar piangendo, mi sono fatta l'apertura del Beltramme a Milano piangendo perché per noi è un'emozione unica poter ritornare qua perché lo facciamo, è vero, è un lavoro, ma è anche tanta passione. Regaliamo questa opportunità alla nostra cantela. Da venerdì con Nomadland, gli spettacoli saranno infrasettimanali sempre a orario di aperitivo, quindi alle 19, visto la chiusura forzata del 22, i festivi e i prefestivi replichiamo anche alle 16.30. L'accesso alla sala è monitorato l'ingresso con la scansione della temperatura corporea, il nominativo che viene lasciato e mantenuto da noi per 14 giorni, i distanziamenti erano già stati prestabiliti, per fortuna la sala Loreto dispone di una capienza abbastanza importante, quindi cercheremo di accontentare tutti quanti. Importante rimanere sempre con la mascherina, almeno chirurgica, per tutta la fruizione della sala. Per chi non fosse munito daremo noi il dispositivo in omaggio per poter entrare e accomodarsi liberamente.